Come in tutte le tradizioni calcistiche si cambia l'allenatore e si vince e così è successo all'Arezzo, giusto Stefano? Sì, è successo all'Arezzo e direi anche meritatamente. L'Arezzo ieri ha cambiato completamente volto e a parte gli ultimi cinque minuti dopo che ha preso il gol del 2-1 e dove gli sono tornate in mente le ataviche paure, anche perché la classifica le impone, ha giocato una buona partita ma soprattutto ha dato per la prima volta l'idea di squadra. Squadra vuol dire collegata tra i reparti, una squadra che non è che ogni volta che aveva palla l'avversario aveva l'idea che poteva prendere rete. Quindi con una difesa ben impostata, con due centrocampisti a proteggere ma soprattutto con un attacco che per la prima volta ha dimostrato tutto il suo valore. Io sono sempre stato un sostenitore, insomma le interviste passate lo dimostrano anche di un giocatore come Sanguinetti che lo reputo un grandissimo giocatore per la categoria. Protegge la palla, fa reparto e Cogliacona oggi costituisce per la categoria veramente una coppia d'attacco di assoluto rilevo. Bene anche i giovani che stanno crescendo. Ottima la prova di Starnini che se finora aveva denunciato problemi in fase difensiva ieri invece è stato bravissimo anche in quel particolare tipo di gioco. Bene anche Terzi che ha iniziato un attimino impaurito anche perché insomma è un giovane che viene dalla Baldaccio, prima partita da titolare e poi la paura gli è passata ha cominciato a far vedere le sue doti. Quindi direi un buonissimo inizio di un allenatore preparato come Frattini che conosce a menadito la categoria e che si vede che insomma sta a lavorare molto bene con i giovani. Un grande applauso a questo allenatore. Quindi speriamo che questa vittoria con lo Spoleto sia una base di partenza per una serie positiva per la nostra squadra. Siamo al calcio nel sedere. Sì, il calcio nel sedere lo prende oggi. Primo di tutti il presidente serbo il quale ha avuto anche la sfrontatezza oltre che di accusare la polizia italiana e l'organizzazione italiana per la partita Italia-Serbia-Genova ha avuto anche la sfrontatezza tanto di ormai sfacciati per sfacciati e chiediamo anche questo di rigiocare la partita. Quando io invece mi auguro vivamente che la UEFA impedisca alla Serbia di partecipare all'europeo sarebbe la punizione più giusta anche perché voglio immaginare, a parte che se gli danno il 3-0 a tavolino è praticamente fuori. Però voglio immaginare se questi riuscissero a qualificarsi per l'europeo che casino che farebbero tutti i suoi oligans nella sede e appunto nel paese dove ci saranno gli europei. Quindi direi e stigmatizzerei anche come UEFA il comportamento di questo presidente che invece di coprirsi il capo di cenere fa anche lo sbruffone. Il secondo calcio nel sedere lo prende Carrara ma non per quello che aveva fatto finora perché Carrara è l'ex allenatore dell'Arezzo, spieghiamolo perché non tutti seguono il calcio. Hai perfettamente ragione. Ma non perché la sua gestione è stata deficitare in fatto di punti. L'allenatore si sa paga per primo e forse ha pagato per colpe non soltanto le sue. Però la lettera con la quale si è congedato da Arezzo che è una lettera che dice o non dice non è assolutamente di spessore, soprattutto era estremamente destabilizzante. Curioso poi il fatto che alla fine lo abbia detto, ora però non è il momento delle critiche. Il terzo calcio nel sedere lo prendono gli Aretini che insomma sta squadra comunque merita di essere eseguita perché ieri c'è stato uno striscione che secondo me va sottolineato ai tifosi dell'Arezzo. Con Mancini c'era scritto vergogna di essere Aretini, con Massetti il vanto di essere Amaranto. E' una provocazione perché alla fine con Mancini abbiamo visto anche la Serie B, è vero. Però qui chi vuol bene veramente l'Arezzo riscopre il tuo valore, il gusto di abbracciarsi per una vittoria con lo Spoleto che fino a tre anni fa poteva essere namichevole del giovedì. Però signori, questo è il calcio e avanti così. Ciao a tutti.